Mister, prima di parlare della vittoria e della partita in sé per sé, diciamo un'altra volta una prestazione del notaresco che anche senza dei giocatori importanti riesce a dare il meglio di sé? Sì, è una prestazione importante, un risultato importante contro una diretta concorrente e questo ci fa piacere. Mi fa piacere l'entusiasmo ai ragazzi perché stanno raccogliendo ancora una volta quello che è il loro spirito di sacrificio, la loro voglia di fare. Quindi credo che sia giusto così. Analizzando la partita, sinceramente dopo l'1-0 dovevamo gestire meglio. Abbiamo un po' abbassato troppo il baricentro, però ci può stare con una squadra fisica come la loro, una squadra importante come la loro. Forse la paura di non riuscire a portare a casa il risultato ci ha fatto perdere un po' di possesso palla, però fa parte della gara, fa parte del percorso. Abbiamo avuto la fortuna di raddoppiare e alla fine forse è stato tutto più facile. La squadra è approcciata molto bene, ha occasione nel primo tempo da una parte e dall'altra, poi nel secondo tempo dopo il gol di Minella, di fatto l'inerzia è passata tutta dalla parte del notalesco. Sì, nonostante il primo tempo ha fatto bene, però dobbiamo dire che Francavilla aveva avuto un'ottima occasione con Dos Santos a tu per tu col portiere. A volte le partite si indirizzano con degli episodi. Noi siamo stati bravi a recuperare palla sulla tre quarti e mandare l'attaccante Santiago Minella in porta e abbiamo concretizzato. Da lì forse l'inerzia si è spostata. Abbiamo raddoppiato le forze, facendo forse una fase un po' più difensiva e giocando un po' più di rimessa, però devo dire che alla fine i ragazzi hanno raccolto il giusto merito. L'avevi detto in settimana, non dobbiamo fasciarci la testa per le assenze. I conti ti hanno dato ragione. Benissimo Marcelli, bene Rucci, molto molto bene Cancelli. Sì, quando un allenatore vede i propri ragazzi, a prescindere da chi gioca, dagli 11 o da chi in questo momento non sta giocando, lavorare come lavorano loro e credere in quello che fanno, credo che poi alla fine la domenica la tranquillità, la certezza non c'è mai, però la tranquillità di quello che possono dare sì. Oggi è la dimostrazione di Cancelli che è la prima volta che gioca a titolare dopo un periodo di infortunio e questo deve essere il nostro spirito e bisogna continuare in questa strada. Era una partita importante, gli effetti si vedono adesso, di nuovo terzo posto solitario. Sì, era una partita importante perché la classifica diceva che era uno scontro al vertice. Siamo stati bravi a portarla dalla nostra parte, però al di là di questo campionato continuo ci godiamo questa pausa di sosta con serenità, pronti per le due sfide difficili che ci aspettano nella ripresa con Pinedo e San Giustese. Mister, un primo tempo sostanzialmente equilibrato, occasione da una parte e dall'altra, poi nel secondo tempo sono arrivate le due reti, soprattutto la prima che ha spezzato l'equilibrio. Sì, bravo, è stata una partita nel primo tempo, abbiamo avuto un paio di occasioni noi, il palo loro, quindi potremmo fare i gol tutti e due. Abbiamo avuto l'occasione clamorosa con Dos, che purtroppo a tu per tu col portiere non è riuscito a fare i gol. Io sapevo che questa partita si decideva per un errore individuale, perché poi alla fine è andata così. Abbiamo preso il gol e poi abbiamo fatto fatica a replicare e quindi a costruire azioni per cercare di pareggiarla. Però, ripeto, si guarda avanti con ottimismo, la nostra forza è stata sempre la continuità e quindi adesso si riparte sempre con fiducia, analizzando gli errori che abbiamo commesso, perché alla fine sono due errori nostri che non dobbiamo più commettere.